Nel tuo libro c'è una bellissima lettera d'amore che lui ti ha scritto. Posso, Alessandro, farla sentire? È una cosa meravigliosa. Ascoltate. Mia amata Carolina, ricordo perfettamente il giorno in cui il medico ci ha comunicato questa terribile notizia. In quel momento una goccia gelida di sangue ha attraversato il mio cuore. Non ci potevo credere. Perché a lei e non a me? Notti insonni, dolori allucinanti, corsi all'ospedale e via con i primi cicli di chemio. La tua solarità e positività sono servite ad altre donne impaurite e preoccupate come te di affrontare tutto a testa alta, senza perdere mai la dignità di donna, anche quando te ne andavi in giro da pelatina, fregandotene del giudizio della gente. Tu sei un dono di Dio. La tua bontà, la tua generosità, sempre al servizio degli altri, specialmente in questo viaggio così complicato, mi hanno fatto capire veramente che grande donna sei. Tra tanti anni sarà solo un brutto ricordo, con la speranza che si esaudisca presto il nostro desiderio, avere un bimbo al quale poter urlare «Grazie per avere salvato la mamma!» Tuo Ale Grazie. 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 Grazie.